Hello everyone, welcome or welcome back to my channel, oggi faccio un makeup tutorial con dei nuovi prodotti che mi sono stati inviati, il brand è Colourpop Cosmetics e ancora non riesco a creere che mi abbiano inviato un po' delle loro cose, io sono sempre stata molto curiosa di provare le loro cose, i loro prodotti e finalmente ho l'opportunità di mostrarvi come sono questi prodotti su pelle scura, perché in Italia purtroppo non ho ancora visto nessuno fare questa cosa e quindi ecco sono qui a mostrarvi, a fare da cavia molto felicemente. La particolarità di questi prodotti è che sono tutti molto burrosi, sono degli ibridi, non sono né cremosi né polverosi, non so come spiegare però ecco è una loro particolarità, il brand è famoso perché quando l'ho scoperto io tutti i prodotti costavano super giù sui 5 dollari, adesso penso che magari costino un pochino di più. Ci sono dei kit con dei prodotti all'interno che costano tipo qui vedo il Nectar Collector Kit, Think Pink Kit, Simply Sand Kit, questi costano su 30 dollari, però comunque vedo che gli ombretti costano singoli, quelli singoli, sempre 5 dollari. Vediamo gli ultramatte lip quanto costano, 6, hanno aumentato, hanno aumentato di un dollaro, costano 6 dollari e poi gli highlighter vediamo quanto costano. Allora uno, quindi tipo questo qua, costa 8 dollari, poi c'è il kit da tre che hanno inviato a me che costa 20 dollari, sì 8 dollari, 6 dollari, 5 dollari, le cose singole. Poi magari se ci sono dei prodotti che sono, è brutto dire così, comunque ammassati in un pacco costano dai 20 ai 30 dollari, insomma non è tantissimo. Una cosa che mi ha colpito di questo brand è che loro secondo me sono andati a guardare i miei makeup tutorial perché come saprete io sono un amante dei toni caldi. E mi hanno inviato tutte cose che hanno un underton caldo, per esempio, aspetta che ve le apro, ho questo prodotto che è fichissimo ragazzi, è un po' difficile da modulare, nel senso che per me è stato un attimo, come dire, è stato un po' difficile in particolar modo stendere questo, ho dovuto dare parecchie passate per ottenere questo risultato. Però per il resto, per dirvi questo qua che l'ho usato nella crease, devo dire che è abbastanza pigmentato, mi spaventava un po' la cosa di applicare magari questo ombretto con un pennello perché essendo un ibrido, non lo so, avevo paura che rimanesse sul pennello e che non si stendesse bene o che diventasse un po' peci, invece con grande sorpresa ho scoperto che i prodotti si stendono abbastanza bene. Sono un po' titubante sul blush perché io sono una blush addicted e dai un pochino si vede, però ecco anche qui per ottenere questo risultato ho dovuto usare diverse volte. E niente, allora vi faccio vedere un po' la pigmentazione del prodotto, ok, lo stendiamo qua, questo è il blush, questo qui si chiama Swift ed è un super shock chic, poi abbiamo questo che è Candyman, anche questo fighissimo ragazzi, della serie scusa, scusa, scusa. Quest'altro altro anche c'è che l'ho usato come illuminante poco poco, infatti come potete vedere è ancora vergine e anche qui ragazzi è incredibile la pigmentazione. Questo si chiama Soft Serve e questo è il mio preferito perché, vabbè, loro dicono che è un blush però secondo me va bellissimo anche come ombretto. Cioè scusate, 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 cioè fighissimi, sembrano tutti illuminanti, bellissimi, meravigliosi. E poi questo è l'ombretto che vi dicevo che è Bandit, lo metto qua, eccolo qua, come potete vedere eccolo qua. E poi abbiamo lui che è Nail Your Nair e lo andiamo a stendere, lo stendiamo qua. Poi mi hanno dato anche due lip liner e due rossetti e tra questo c'è Ellarie. Ellarie è una make up artist americana, non la conosco personalmente però ci siamo scritte diverse volte. È un po' che non la sento adesso però ecco mi ricordo che quando Ellarie decise di fare questa collaborazione con Colourpac Cosmetics ero curiosissima di scoprire come questi prodotti, come questo rossetto potesse essere sul mio incarnato. E quindi adesso ce l'ho finalmente sulle labbra, sono troppo felice. E questo è il lip kit, anche qui abbiamo una pigmentazione buona, nel senso che, cioè guardate, è proprio top. Eccoci qua. Ovviamente per ottenere questo risultato io ho steso prima la matita e poi ho applicato questo rossetto che ha un finish matte. E poi ho ricevuto questa lip liner che si chiama Bonus Points, eccola qui. Questa è una lip liner, come potete vedere è un po' più sui toni del nude. E poi dov'è il corrispondente? E questo invece è Sheer. È cremoso, infatti si vede che ha una consistenza diversa. Comunque questi sono i prodotti che mi hanno inviato e con questi prodotti ho deciso di creare un look che potrebbe essere adatto magari per la Pasqua, oppure per una cerimonia, o per un evento, o per un cocktail party. Comunque uno di quei look che si sfoggiano in delle occasioni speciali. Ovviamente il make-up che ho ricreato può essere riprodotto anche su pelle chiara, su pelle medio chiara, chiarissima, medio scura, scura e scurissima. Se non sei ancora iscritto al mio canale, you better subscribe! Ma adesso bando alle ciance e passiamo al tutorial. Molto bene, inizio applicando un piccolo strato di Shine Killer. Questo è un primer che mi piace moltissimo. E lo applico ovviamente su tutto il mio viso. Dopodiché vado a prendere il Body Shop Foundation. Questo è nuovo, l'ho preso in Francia. A quanto pare c'è uno store di Body Shop anche a Milano e non lo sapevo. E poi prendo lo Studio Finish Concealer NC50 per andare a correggere tutte le mie imperfezioni, discromie, eccetera, eccetera. A questo punto prendo Leile Girl HD Concealer in Fon. Questo ragazzi è il mio preferito, lo vedrete sempre in questi tutorial perché mi piace tantissimo, fa il suo lavoro e costa poco. Magari sotto vi metto anche il link di dove potete comprare questo correttore. E niente, poi adesso prendo il correttore di NYX in Deep Reach. Anche questo se magari trovate un'alternativa che costi poco, fatemelo sapere. Io ad oggi non ho un correttore di questo tipo che posso utilizzare sul mio viso. E quindi niente, vado a fare il contouring delle mie cheeks, del naso e sfumo bene. Andiamo a fare un po' di baking con il Lockheed Translucent Powder di Kat Von D, di Kat Von D. Mi piace molto perché non fa flashback, non si sa perché, però non fa flashback. E voilà, abbiamo le nostre eyebrows. Non vi faccio perdere tempo perché ho un tutorial dedicato alle mie brows. Se volete ne faccio uno, magari updated. Vado a togliere il mio baking. E come potete vedere, non c'è più niente. Adesso prendo Karob. Questo è un altro prodotto che ho comprato. Diana Sazabar Leals, mi piace tantissimo. Magari se volete vi faccio vedere un hole delle cose che ho comprato ultimamente. E adesso vado a fare il priming dei miei occhi. Prendo l'Hightshadow Refill 27 in Prisky. Ragazzi, ho fatto una selezione di ombretti Refill perché a me piacciono tantissimo in quanto posso spostarli nelle varie palette magnetiche che ho. E in base alle mie occasioni, ecco, le cambio. Se volete vi faccio vedere un video in merito a questa cosa. E adesso applico Millionaire, anzi Millionaire di Colourpop. Devo dire la verità, non è stato semplice applicarlo perché ha una consistenza texture nuova. Però ecco, sì, si applica e come potete vedere l'effetto. It's very good. Di che prendo Berry Tall. Questo è un nuovo eyeshadow in Refill, sempre di NYX. Mi piace tantissimo. Costa 2,90 euro. E lo vado ad applicare sulla mia crease, quindi sulla piega dell'occhio. Prendo il mio mascara preferito del momento che è il Cinescope. Mi piace tanto perché, non lo so, va veramente molto bene con le mie ciglia. E adesso prendo queste ciglia bellissime. Sono della Arizon, le ho comprate su Amazon. Magari vi metto il link di queste ciglia. Costano non tantissimo per essere delle mink lashes. Adesso prendo Candyman che è un Super Shock Cheek e lo vado ad applicare anche sull'arco di cupido. Così. E adesso prendo sempre un Super Shock Cheek in Soft Serve e lo vado ad applicare sui miei zigomi. Cocchi è completato. Molto glam. E adesso prendo il Super Shock Cheek in Swift. Questo è un blush sul terracotta, diciamo. Forse un po' più scuro del terracotta. E adesso applico il Lipi Pencil in Bonus Point per poi applicare il Lipi Sticks abbinato sempre in Bonus Point. E questo è il risultato finale della prima opzione look. Ovviamente per coloro che non amano i rossetti nude abbiamo Ellary. Quindi questo è l'abbinamento di Lipi Pencil più Lipi Sticks in Ellary. And the look is done. Se vi piace il look mettete un bel pollice in su. Bene ragazzi io spero che questo video vi possa essere piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando mettete un like che mi ha aiutato tantissimo. Fatemi sapere che cosa vorreste vedere nei prossimi video. E noi ci vediamo in the next one. Bye!